È tornata l'Aquila d'Oro, la storica pizzeria di Corso Principe Amedeo a Cava dei Tirreni. Vieni all'Aquila d'Oro, una tradizione che si rinnova. Il De Filippi Sgaldi di Cava dei Tirreni tra i migliori istituti superiori del Salernitano, in grado di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari e al mondo del lavoro, verso un'occupazione coerente con gli studi fatti. Stamattina, gli alunni della scuola secondaria di primo grado Alfonso Balzico hanno partecipato alla giornata di apertura del liceo, visitando l'istituto e assistendo ad alcune lezioni, in vista della scelta determinante dell'istruzione superiore. Il dirigente scolastico e i docenti, impegnati ad accogliere i potenziali neofrequentanti, hanno sottolineato l'importanza della scelta formativa, legata alle proprie attitudini e alle passioni, evidenziando soprattutto le attività extrascolastiche proposte, che vanno ad arricchire l'ampia offerta formativa dell'istituto. Previsti altri incontri pomeridiani, fino all'Open Day, che si terrà il 20 e 21 gennaio. Open Day significa appunto giorno di apertura, però la scuola è sempre aperta, è sempre aperta al territorio, è sempre aperta all'utenza, è sempre in rapporto con le esigenze e i bisogni del territorio. Questo è un nostro orgoglio, perché sia il classico, i due edifici, i due plessi principali, il classico e il musicale, e il linguistico, scienze umane, scienze economiche, hanno, chi più chi meno, una grande tradizione nel territorio cavese. A questo poi si sono aggiunti questi altri indirizzi, che hanno cercato anche di portare innovazione, novità, quindi scienze umane e indirizzo economico, il linguistico, che è una grande opportunità, forse una delle più grandi opportunità oggi per i giovani, e il musicale, che ha aggiunto quella nota, diciamo, di creatività, di innovazione, che veramente le nuove generazioni portano già automaticamente. Quindi noi siamo molto orgogliosi di questo, diciamo, di questi insieme di indirizzi, che completano veramente l'offerta, e permettono, perché no, anche ai nostri ragazzi, nel caso in cui sappiamo bene che a 14 anni scegliere è un po' difficile, all'interno dello stesso istituto, quindi con docenti già conosciuti, con una dirigenza già attenta, diciamo, e consapevole, dà la possibilità di passare anche, nei primi anni, da un indirizzo all'altro senza traumi. Questo liceo punta soprattutto sul dialogo con gli alunni, non soltanto sulla mera erogazione di informazioni, ma sulla possibilità di un confronto, di un confronto continuo, affinché gli alunni possano arricchirsi. Al di là della formazione, per quanto concerne il linguistico, per esempio, vengono organizzati dei corsi, cioè corsi per il conseguimento di certificazioni, oltretutto, questa è l'unica scuola della provincia di Salerno in cui venga insegnato il russo, che è una lingua molto affascinante. Questa scuola, soprattutto il De Filippis con linguistico, promuove viaggi all'estero, viaggi studio, ha aperto le porte a Intercultura, che è un'associazione di volontari che prevede una media alta almeno per due anni e poi dei test di selezione per poter affrontare una permanenza in un altro paese presso altre scuole. Ci sono poi, per quanto riguarda l'indirizzo di scienze umane con opzione economica, ma anche corsi di statistica, la scuola offre un ampio ventaglio di progetti scienze umane, per esempio, organizza tirocini presso le scuole elementari e presso i centri geriatrici. Il liceo classico ha sottoscritto una convenzione col Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa, col quale realizza un progetto intitolato Matematica in realtà, già dal 2005-2006, e anche una convenzione con il Dipartimento di Chimica dell'Ateneo di Salerno. Tra le altre cose, il musicale è aperto alle performance sia intra che extramenia. C'è un percussionista, un insegnante che insegna percussioni che ha appena 21 anni. Veramente, devo dire che è una scuola al passo con i tempi che cerca sempre di adeguarsi e di rispondere a quelle che sono le novità.